Domenico mi chiede, nella tua esperienza hai mai avuto episodi in cui hai subito la sindrome dell'impostore? Magari quando eri junior o in fase in cui ricoprivi ruoli che non ti piacciono particolarmente? Allora ragazzi, Domenico domanda bellissima, la sindrome dell'impostore per chi non la conoscesse fondamentalmente è quando non sei sicuro di te, è il famoso speriamo che non si accorgano che sono quello che ne sa meno di tutti qua, oppure mamma mia come sono arrivato qui, obiettivamente sono tutti più fighi di me, sono tutti più bravi di me e via dicendo. Di sindrome dell'impostore ragazzi vi do una bella notizia, sindrome dell'impostore ne soffriamo tutti, non la subisci, la soffri della sindrome dell'impostore anche io, anche adesso, ok? È assolutamente normale e chi dice di no probabilmente o in overconfidence o sta mentendo o non la riconosce o semplicemente non sa neanche cosa sia. Io fino a pochi anni fa non sapevo, anzi quando ho scoperto la sindrome dell'impostore ha detto ah così si chiama, no? Quella sensazione di come sono arrivato qua. Credo che fosse Thomas Moore che diceva qualcosa del tipo se mi valuto non valgo niente ma se mi confronto avrei qualcosa da dire. Per dire cosa questo? Siamo tutti nella stessa barca e tutti, chi più chi meno, hanno una forma di sindrome dell'impostore. È assolutamente normale, tant'è vero che se fate una minima ricerca su YouTube, su Google, sindrome dell'impostore troverete tonnellate di contenuti di video. E ci sta, ci sta. La sindrome dell'impostore fa anche parte del tuo riconoscere che devi comunque crescere, che c'è sempre opportunità di miglioramento e via dicendo. Ci sono dei momenti in cui più che sindrome dell'impostore è proprio che, non dico che hai fatto magari il passo più lungo della gamba, però ci sono delle cose dove sai che devi darti una mossa per migliorare e per acquisire. Però in generale questa cosa del forse non sono la persona più preparata nella stanza, considerate che la pensano tutti, ok? E quindi ci sta, usatelo come combustibile per stimolo, per continuare a crescere, a formarvi, a non sentirvi mai arrivati. Per cui sì, Domenico, con la sindrome dell'impostore non dico che ci si convive quotidianamente, ma è assolutamente presente e credo personalmente che sia davvero quasi un bene, nel senso che ci sta, è bene che ci sia e soprattutto pensate oggi il mondo del lavoro, ragazzi. Veramente 40-50 anni fa tu potevi avere una carriera che era il copia e incolla del giorno e dell'anno precedente. Io, vabbè, io ho una carriera un po' particolare, sapete, io sono un ingegnere, ho una carriera da generalista e ho fatto tantissimi cambiamenti nella mia carriera, però io adesso ho diverse decine di persone a cui sto facendo o ho fatto consulenza per la parte carriera, no? Quindi cercare lavoro, oppure sistemare delle dinamiche in azienda, migliorare per la parte di professional mindset, ma vi assicuro che tutte le persone con cui ho parlato, in diverse forme, tutti vivono di un costante cambiamento, no? Cioè, tant'è vero che il change management è uno degli argomenti principali, per cui è inevitabile in qualunque carriera, anche quella che può sembrare la più lineare, essere sottoposti a vari checkpoint in diversi momenti, per diverse competenze e per diverse aree di influenza o responsabilità o terreni di gioco. E ognuno di questi è un terreno fertile per la sindrome dell'impostore, no? Oh cacchio, mi sono occupato di due nazioni, adesso ne seguo dodici, seguivo un team di due persone, ora sono quattro, non seguivo nessuno, adesso seguo delle persone. Oppure, pensate, no? Più andate avanti e più sarete circondati di gente in gamba, perché comunque è gente che ha scelto di fare determinati passaggi di carriera, e tutto questo aiuta, facilita una logica di sindrome dell'impostore che io vedo assolutamente in positivo, anzi vi ripeto, per me è stato molto rassicurante scoprire che aveva un nome, perché significa che non è un problema soltanto tuo. Un po' come quando con lo Strengths, il test di Gallup, ho scoperto che c'era un motivo dietro al mio funzionare, sentire e lavorare in un certo modo, per cui assolutamente c'è, studiatela, ci sono degli articoli molto interessanti di varie persone, anche psicologi ne parlano su YouTube, e quindi vi consiglio di studiarla, ma appunto, cioè quasi come se fosse una compagna di viaggio, perché fortunatamente lo sarà, e se non avete paure o cose di questo genere, probabilmente siete in overconfidence, che è molto più pericolosa, ok? Quindi sì, Domenico, non ne ho sofferto da giovane, perché non sapevo, o meglio, probabilmente ne soffrivo senza saperlo, perché io non sapevo se chiamasse così.